Sono Mary Zelenkova, ideatrice del metodo Eterna Giovinezza Viso, un metodo naturale per il rinjuvenimento del viso. Skinnova è un trattamento viso straordinario e funzionale che fa parte di questo metodo e io sono davvero entusiasta di presentartelo. Questo trattamento ha un effetto lifting immediato ed un effetto anti-age. Skinnova valorizza in pieno la vera essenza dell'estetista, che è un artigiana della bellezza e lavora con le proprie mani. In un mondo dove le tecnologie ci hanno fatto dimenticare la vera potenza dello strumento più efficace nel campo estetico, le mani dell'estetista. Skinnova inoltre non è un semplice trattamento viso anti-age per eccellenza, ma un vero e proprio viaggio in un'altra dimensione, perché lavoriamo su tutto il corpo per ristabilire un equilibrio psicofisico. Grazie.